Domani passa il Giro d'Italia, dunque per l'occasione alcune strade rimarranno chiuse. Si, si tratta della tappa Osimo-Imola e quindi questa volta la nostra città è interessata a un orario della pausa pranzo, diciamo. I corridori passeranno alle 13.50 sulla Statale, quindi arrivando da Mondolfo-Marotta passeranno sulla Statale Adriatica, Viale Piceno, salendo poi su Viale Gramsci e poi tutta la Statale Adriatica fino a Pesaro. Le strade inizieranno a chiudere alle ore 12.20, quindi il disagio inevitabilmente ci saranno per chi deve attraversare la Statale. La notizia importante sono anche le chiusure anticipate delle scuole e in questo caso le scuole interessate sono, partendo da sud, la Fadi Bruno di Marotta, la Sido Nino il Grillo, la scuola primaria Corridoni, il Luigi Rossi e poi per quanto riguarda le medie, le due medie del centro storico, la Padalino e la Gandiglio, anche la scuola del Porto, la primaria Gentile e gli istituti superiori tutti, perché sono tutti coinvolti dai ragazzi che devono rientrare in pullman e quindi dobbiamo assolutamente garantire il rientro. Le strade quando verranno riaperte? È una tappa per velocisti, il gruppo dovrebbe essere tutto compatto, in 10 minuti dovrebbe passare, per le 14 rientreremo alla normalità circa. L'invito che faccio è anche quello di venire alla zona Pincio verso le ore 12 perché abbiamo la sosta della carovana pubblicitaria che regala tanti gadget per i bambini, quindi questo è l'invito anche che facciamo ad accogliere i mezzi del Giro d'Italia. Grazie a tutti!